Buongiorno, buongiorno, buon martedì. Senta, una delle cose diciamo su cui più insistono gli esponenti del nuovo governo è che grazie appunto alla nascita di questo governo si sono raffreddati in senso positivo i rapporti con l'Europa, tutto questo ha portato a un calo vistoso dello spread, quindi a dover sborsare una cifra più contenuta per gli interessi sul nostro debito e questo ci permetterà quindi di avere dall'Europa maggior flessibilità, cosa che invece voi non avevate ottenuto. Ma guardi, abbiamo visto già i governi del passato del centro-sinistra quando ottenevano la flessibilità dell'Europa, nascondevano delle fregature per gli italiani. Vi ricordate benissimo allora, primo ministro Renzi, come ottenne la flessibilità per l'Italia? La ottenne in cambio dall'accoglienza clandestinità. Quindi è chiaro che non mi interessa capire qual è il numero che si ottiene dall'Europa, mi interessa capire quali sono le misure. Sentire da chi ha votato la legge Fornero che la quota 100 è un errore, mi preoccupa. Cioè capire, non aver capito che aver votato la legge Fornero è stata un'ingiustizia contro i lavoratori, contro i pensionati, mi preoccupa perché vuol dire che qualcuno probabilmente pensa ad altre leggi Fornero al posto di fare le cose utili per i cittadini. Pensare oggi ad esempio a non riconoscere che la prima misura che serve è la riduzione sulla pressione fiscale. Io non sento in questa manovra... Guardi, non l'ho interrotto, io capisco che lei si agita perché nel suo ruolo mi agiterei anch'io. Nel suo partito sarei probabilmente molto più agitata di lei perché la posso comprendere, però resta oggi il fatto che nei primi sei mesi dell'anno hanno aperto 139 mila partite IVA in più. 66 mila partite IVA hanno deciso di utilizzare il regime dei minimi, cioè il 15% di tassazione piatta. Vuol dire che quello strumento della tassazione piatta funziona. Voi lo volete uccidere, adesso sento che per combattere l'evasione fiscale volete mettere il 2% di IVA in più a chi paga il ristorante in contanti, ma perdonatemi, ma non prendeteci in giro. L'evasione fiscale secondo me si controlla per chi paga il 2% in più di IVA al ristorante, chi evade paga ben volentieri il 2% di IVA al ristorante. Non è così che si contrasta l'evasione fiscale, mi perdoni, ma voi date il 2% a chi paga i contanti. Ma non è così. Ma non è così. La vera evagione fiscale che purtroppo avviene per chi oggi utilizza dei paradisi fiscali che sono paradisi fiscali amici vostri, basti pensare in Lussemburgo, basti pensare in Lussemburgo, che oggi sono protetti da questa Europa. a questo è l'evasione.